Nel periodo di più freddi l'elevato salto di temperatura fra interno e esterno e la necessità di fare cicli di sbrinamento. Per risolvere questo problema si può applicare la pompa di calore alla geotermia. In questo caso il calore viene prelevato non più dall'aria esterna ma dal sottosuolo, in cui la temperatura è generalmente compresa fra i 13 e i 15 gradi. Quindi si realizzano dei pozzi, 100-150 metri di profondità, si fa circolare un liquido che scambia il calore con questa temperatura. Il vantaggio è che abbiamo un minor salto termico fra interno e esterno e il tutto ha vantaggio sempre della coefficiente di efficienza energetica. che possono arrivare a 5 o a valore anche più elevato, dipende sempre dalla temperatura a cui poi si utilizza il fluido interno. Quindi questo è uno schermino che sintetizza un attimo com'è che funziona la pompa di calore a geotermia. E poi abbiamo le fonti energetiche rinnovabili, tipicamente sono quelle più conosciute che possono essere impiegate, sono il solare, nella sua versione sia termica che fotovoltaica, la biomassa e l'eolico. L'eolico qua da noi è poco sfruttabile perché abbiamo vento e non ne abbiamo. Le più interessanti sono sicuramente il solare e la biomassa. Nel solare termico dei collettori raccolgono la radiazione solare, la trasformano in calore scaldando un fluido, normalmente l'acqua, che viene quindi poi utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria e in alcuni casi anche come integrazione al riscaldamento. Nel fotovoltaico invece delle apposite celle comunque trasformano sempre la stessa radiazione in energia elettrica. Presentano rendimenti di conversione nettamente diversi, nel senso che in un solare termico abbiamo un rendimento che in funzione della temperatura esterna, dell'impiego della temperatura interna, viaggia da un 40% a un 60% a un 70% di rendimento. Il fotovoltaico, il rendimento, è molto più basso ed è a funzione molto della tecnologia utilizzata, che poi comunque spiegherà meglio i relatori che si succederanno, però parliamo da un 5, 12, 15% di rendimento. Però diciamo che questa, se applichiamo il concetto della conversione dell'energia elettrica posta a 0,36 come effetto di rendimento, è come se però il rendimento del fotovoltaico fosse triplo rispetto al pannello solare. Quindi se abbiamo un 15, dovremmo considerarlo un 45, perché tale sarebbe l'energia termica necessaria per produrre la stessa quantità di energia elettrica. Quindi non è molto distante da quello che è il rendimento del pannello solare termico. La biomassa invece, è più facile forse anche intuire che cos'è, sono tutte quelle sostanze organiche, combustibili, che possono essere sia scarti di produzione o anche coltivazioni dirette. Ci sente molto parlare del mais, oppure del cippato, del pellet. E poi abbiamo un altro termine, che è le fonti energetiche, che ho aggiunto io, equivalenti, che nascono da quello che è il regolamento della Regione Emilia-Romagna. Sappiamo che il regolamento per la certificazione energetica, sintetizziamolo così, della Regione Emilia-Romagna, prevede per le nuove costruzioni o per le ristruttazioni integrali di edifici esistenti, l'impiego obbligatorio di determinati quantitativi di fonti energetiche rinnovabili. Il regolamento permette di utilizzare al posto di queste fonti energetiche rinnovabili ciò che lei definisce altre fonti che considera essere equivalenti. e parliamo quindi di cogenerazione ad alto rendimento, microcogenerazione, quindi piccoli cogeneratori all'interno della stessa unità abitativa, oppure il collegamento a reti di teleriscaldamento comunali. Allora, noi abbiamo prodotto il colore, adesso lo dobbiamo immettere nell'ambiente, abbiamo diverse possibilità e tecnologie a disposizione, abbiamo quindi i radiatori, i termosifoni che siamo abituati a conoscire nelle nostre case, che sono un ottimo elemento per l'impiego con le caldaie a condensazione. Gli impianti a pannelli a pavimento, il riscaldamento a pavimento, che si sposano inevitabilmente con la geotermia, o meglio, l'impiego della geotermia trova nel riscaldamento a pavimento assolutamente il suo partner ideale. I ventilconvettori, che possono essere utilizzati con qualunque tipo di generazione di calore, hanno il vantaggio di poter essere impiegati, lo stesso apparecchiatura, anche per il raffrescamento. Poi abbiamo impianti ad aria, che si rendono necessari, qualora ci sia la necessità di controllare la qualità dell'aria, o comunque di fare della depurazione, o controllare l'umidità, come ad esempio possono essere in sale museale o altre cose. E poi abbiamo gli apparecchi radianti ad infrarossi, che possiamo vedere anche nell'ingresso. Sono degli apparecchi che possono essere sia elettrici, come nel caso qui dell'ingresso, oppure anche alimentati a gas. In questi apparecchi delle lampade emettono delle radiazioni infrarosse e riscaldano non tanto l'aria o l'ambiente nella sua complessità, ma solamente i corpi che vengono colpiti dalla radiazione. È un po' come quando ci troviamo in inverno, in montagna, in una bellissima giornata di sole, che non sentiamo il freddo nonostante le temperature rigide, perché queste radiazioni scaldano il nostro corpo e quindi ci fanno percepire una situazione di benessere. Possono trovare applicazioni. Grazie a tutti.